Prende a prestito i versi di Pablo Neruda, In te la terra canta, il titolo dell'esposizione artistica che in occasione della settima edizione della Domenica di Carta l'Archivio di Stato allestirà nei suoi locali pesaresi di Via della Neviera. Taglio del nastro il 10 ottobre alle 17.30 per una mostra che fino al 10 novembre esporrà le opere di due artisti, Anna Rosa Basile e Americo Salvatori, delle loro interpretazioni alle figure femminile mescolate ai temi della terra e della natura. La particolarità che riguarda appunto l'evento del 2021 è quello di avere presentato degli artisti che partono da una figurazione delle donne e comunque dell'identità femminile per arrivare ad una trasfigurazione, ad una nuova proposta, una nuova possibilità di espressione artistica. La nota pittrice ceramista pesarese d'adozione Anna Rosa Basile esporrà dunque la sua trasfigurazione dell'identità femminile fra natura e cultura. Molto lieta di essere qui con le mie opere, col mio lavoro di tanti anni che curo con grande fantasia e con grande serietà. In questa occasione veramente sono molto molto onorata perché poter esporre le mie opere e i miei sentimenti attraverso loro per me è una grande soddisfazione. A fianco alla Basile le opere di Americo Salvatori mescoleranno femminilità, natura e spiritualità. La ricerca dell'equilibrio è ciò che caratterizza di più il mio lavoro. Con una moltitudine di immagini che oggi troviamo e siamo sommersi, la domanda principale che mi pongo è ma serve ancora dipingere, serve ancora creare nuove immagini. Queste immagini cercano di dare un respiro, la possibilità per un attimo di tirare il fiato per una società che è un po' troppo compulsiva. Grazie.